Ciao a tutti ragazzi, bentornati da Carmi Special. Come è andata la vostra giornata al fantacalcio? Raccontatemela qua sotto nei commenti in maniera anche divertente, se ci sono stati bonus ignoranti. Ovviamente sbizzarritevi con i vostri racconti anche in maniera, che so, poetica, non so se vediamo cosa viene fuori. E ovviamente lasciate un bel like, anche perché lasciando like vincerete la prossima giornata farete almeno 85 punti ai vostri avversari in caso 65.5. Mi raccomando, io vi avevo avvisato, poi non dite appunto che non ve l'avevo detto. Detto questo, vi ricordo che in descrizione trovate il link per scaricare OneFootball, applicazione che vi tiene aggiornati sul mondo del calcio, utile anche per i fantallenatori che magari vogliono informazioni su probabili formazioni o anche le conferenze stampa degli allenatori, statistiche su squadra o giocatori, insomma c'è di tutto. Quindi trovate il link per scaricarla qua sotto in descrizione. Bene, adesso andiamo a vedere un po' le mie leghe private, come sono andate, mentre la lega pubblica la vedremo domani e vi dovrei dare alcune informazioni riguardanti i premi ed anche lo schieramento della formazione, perché alcuni magari lo dimenticano. Quindi ci vediamo domani con la lega pubblica. Andiamo invece nelle mie leghe private, che sono tantissime. E l'ultima, ragazzi, è particolare. Non ve l'ho mai mostrata, ve ne parlerò solo da questo video in poi. Andiamo a vedere la mia lega con gli amici. E allora, ragazzi, ho vinto 1-0. Mi è andata di culo col calendario che ho beccato l'unico che ha fatto praticamente 0 gol stagiornata. Grazie al gol di Sensi su assist di Godin. Cioè, ragazzi, veramente il contrario di quello che mi aspettavo. Io mi aspettavo un gol magari di Godin sul corner battuto da Sensi. No, il contrario, sensi che segna di testa su assist di Godin. Roba da fantascienza. Avevo rischiato con il gol di Skorupski di perdere un po' di bonus, ma per fortuna avevo qualche buona valutazione, che mi ha permesso comunque di arrivare al 68,5. Mentre il mio avversario è al 64,5, anche perché lascia in panchina Muriel. Spero non si sentino i lavori in corso, in sottofondo, maledizione. Comunque, passiamo alla classifica con 9 punti in 3 giornate. veramente, punteggio pieno. Gli avversari tra l'altro sono a 5 punti, quindi li ho staccati un po'. È ancora presto. Cerchiamo di staccarli ancora di più. Però qui bisogna dire che il calendario mi ha anche aiutato sta giornata. Cosa che non ha fatto invece nella Lega Mantra. Ragazzi, lì la rosa rende così così. Ho fatto 70,5 che nel Mantra non è neanche malvagio. Però ragazzi, perché tra l'altro avevo schierato un bellissimo 4-4-1-1. Perché? Perché Quagliarella non mi ispirava contro il Napoli. E allora ho detto, ma proviamo questo 4-4-1 con Sansone alle spalle di Immobile. Così posso schierare anche le due ali. C'è lì un nessuso. Era una bella idea. Peccato che non sono arrivato al 72. C'avevo anche la sesta di Tonale, oltre a quello di Sansone. Ma il mio avversario, doppietta di Berardi. Doppietta di Berardi contro la Roma. C'è Roma che stai a vincere 3-4-0. No. Doppietta di Berardi. Preferivo, ragazzi, avrei preferito tripletta di Belotti contro il Lecce. Proprio anche all'ultima partita, così a beffa finale. Ma tre gol di Belotti contro il Lecce. Lì avrei potuti anche sopportare. Ma la doppietta di Berardi contro. Fa malissimo, fa malissimo, ragazzi. Anche perché così il mio avversario mi batte. Tra l'altro, magari contro altri aveva anche potuto pareggiare. Resto a un solo punto in tre giornate, ragazzi. Sfiga clamorosa. Il mio avversario ha una somma punti inferiore alla mia. E secondo ha 6 punti. La classifica è ancora corta, ragazzi. Però, però, un po' di rosicamento c'è. La mia squadra, rosa, è quella più debole. Nel mantra non sono ancora bravissimo. Anche se l'anno scorso in questa Lega Mantra ho vinto io in una Lega 10. Però la squadra non è potentissima. Vedremo, spero, di rifarmi nelle prossime giornate. Comunque sconfitta, tutto sommato, meritata. Andiamo invece nella Lega, diciamo, con i vloggers, fantacalcistici, i juventini. Diciamo, il fantacalcio dei youtubers poveri. Il fantaprocesso, ecco. Ma ragazzi, 4 a 2. Vittoria per 4 a 2 è un massacrato. Mi pare Delio fosse il mio avversario. Con un punto di imbattibilità. Scoperto durante la giornata. Non sapevo ci fosse l'imbattibilità. Altrimenti, magari si è andato proprio su altri portieri. Comunque, già, vabbè, sulla porta c'erano state questioni. Diciamo, miei errori. Altro errore è stato il non essere informato sull'imbattibilità. Comunque, vi piglio questo punto di imbattibilità di Dragoschi contro la Juve. Qualcosa è clamoroso. Poi assist di Godin. Gol di Crescito, praticamente così. A sorpresa, regalato dal VAR. Sensi in gol già il sabato insieme a Mertens. Praticamente la giornata era partita in maniera scoppiettante. Quindi, che dire, tra l'altro qui c'è la soglia. Mi pare, ha 5 punti. La soglia a gol. Quindi con un 82.5 ho fatto già 4 gol. Quindi, che dire, ho massacrato il mio avversario. In una Lega 10 ho fatto già un 82.5. E' partita forte la Rosa. Speriamo continui in questo modo. Ok? Una Lega 10 non sarà facile, anche se la Rosa, abbiamo visto, è abbastanza forte. Andiamo adesso, invece, nei Fandacalci, quelli senza asta. Quelli a quotazione. In una Lega, diciamo, di un paese, qui della Sicilia, siamo circa 30 squadre. E abbiamo la Coppa e il campionato. In Coppa ho pareggiato 2 a 2. Ho schierato comunque la stessa formazione in entrambe le competizioni. Avevo Piondek in gol, Zeiko in gol, l'assist di Kolarov, forse mi entra anche l'assist di Tonali. E mi pare, due punti di modificatore. Il mio avversario qui nella Coppa riesce però a pareggiare perché aveva sia Sensi che, tra l'altro, noterete, il bonus del centrocampi si vale più 4. Questa cosa a me non piace molto. Addirittura dai difensori vale anche di più. Non mi fa impazzire questa cosa, però il regolamento è questo. Tra l'altro adesso dovrò sostituire Douglas Costa perché mi si è infortunato. Qui abbiamo dei campi, diciamo, di emergenza. Poi mi fa pareggiare col gol di Pelotti, quindi nella Coppa sono a 5 punti. Spero almeno di agguantare verso la vetta. Mentre nella classifica generale sono 14esimo. Qui non sta andando benissimo, sono a metà classifica, ok? Perché siamo circa 30 squadre. La stessa Rosa ce l'ho nel fantacalcio, diciamo, degli abbonati. La Lega Privata, dove siamo 76 squadre e sono 11esimo. Quindi, diciamo, che i punti ci sono stati un po' più bassi. Sto rendendo anche meglio a livello di formazione. Nientanto cambio qualcosa. Quindi, diciamo, tutto sommato, non sta andando malissimo, 11esimo su praticamente 76 squadre. Non è assolutamente male. Cercherò di avvicinarmi sempre di più alla vetta. Andiamo invece in un fantacalcio molto particolare. Alcuni di voi, soprattutto quelli che magari mi seguono sul secondo canale, anche se ultimamente non ho pubblicato video sul secondo canale. Vedremo se ci riuscirò quando avrò tempo, magari con video post partita, analisi su varie squadre o sui miei hobby. Così via. Sono appassionato di One Piece ed è stato organizzato un fantacalcio a tema One Piece dove il primo premio, ragazzi, è un viaggio in Giappone. Io ho il desiderio anche di andare in Giappone. Ci voglio andare in questi anni. E quale migliore occasione di partecipare in un fantacalcio dove il primo premio è un viaggio in Giappone. Quindi ho partecipato in questo fantacalcio dove la squadra l'ho chiamata Carmi delle Undici Bestie. Proprio per far capire, ovviamente, il riferimento a Kaido delle Cento Bestie. Quindi, ragazzi, devo dire che la squadra è partita a bomba. Con un bello 83.5 ho fatto 80.5 più 3 punti di modificatore. Perché avevo crescito col 7, anche Meret col 7. Quindi 7 più 3 10 crescito. Quindi mi è scattato il 6.5. Quindi 3 punti di modificatore. Poi Sensi in gol. Immobile in gol. Zapata in gol. Insomma, ho massacrato il mio avversario 4 a 0. Per come funziona? Ci sono ben 9 gironi da 10 squadre. Siamo 90 squadre, ragazzi. Qui sarà veramente complicatissimo portarsi a casa la vittoria in questo fantacalcio. Essendoci ben 90 squadre. Quindi dovrò praticamente prima vincere il girone. Arrivare in cima al girone. Poi in una fase eliminazione. E la fase eliminazione, lo sappiamo, lì conta molto di più la fortuna. Quindi speriamo di continuare così. Ho praticamente il miglior punteggio del mio girone. Vedremo se continuerà in questo modo. Almeno passiamo il girone e poi si vede. È un fantacalcio molto complicato, ma che voglio vincere a tutti i costi. Magari andare in Giappone praticamente quasi gratis. Sarebbe veramente una cosa fighissima. Fate il tifo per me. Ovviamente sono curioso però di sapere la vostra giornata fantacalcistica. E ditemi, fate voi anche più di un fantacalcio? Alcuni di voi mi hanno anche contattato sui social per dirmi. Guarda Carmi, grazie a te in diversi fantacalcio addirittura uno ne ha fatto ben sette aste. E aveva in tutte e sette le rose delle squadre. Diciamo una squadra forte. In tutte e sette le aste aveva fatto una rosa forte. Mi sto a complicare la vita. Quindi molti di voi comunque fanno anche un casino di fantacalcio. Il mio consiglio è non esagerate ragazzi. Non esagerate anche perché io ogni volta per schierare la formazione ci metto una vita. Perché devo ricordarmi di tutti i fantacalcio. Non dimenticare nessuna formazione in nessuna lega. Detto questo, una cosa importante ragazzi, per quanto riguarda la lega pubblica ne parleremo domani. Ma una cosa che mi avete chiesto è riguardante il mercato. Domani vi darò tutte le indicazioni importanti. Ma sappiate che aprirà dopo la nuova giornata. Vi avevo detto la decima, domani vi darò le informazioni a riguardo. Però in ogni caso il mercato, anche per chi ha dei giocatori che sono partiti. Ad esempio Riccardi, io vi avevo avvisato. Non andate a prendere giocatori che potrebbero partire adesso. So comunque che hanno situazioni un po' complicate perché il mercato aprirà la decima giornata. In questo caso, per venire un po' incontro ai fantallinatori, verrà spostato alla nona. Perché in ogni caso dovevano passare o 9 o 10 giornate. Quindi lo aprirò alla nona e poi alla diciannovesima. Al posto della decima e poi diciannovesima. In ogni caso non cambia granché. Detto questo, ci vediamo domani con il video sulla Lega Pubblica ed altre informazioni molto utili. Vi ricordo di scaricare OneFootball dal link in descrizione. Oltre al link del canale Telegram e dei miei social. Mi raccomando, buona fortuna per la prossima giornata. Un bel like per vincere la prossima giornata. Non dimenticatelo. E che dire ragazzi, buon fantacalcio a tutti e buona settimana. Detto questo, a domani. Ciao.